ciao e bentornati sul canale salati prezzi di sponjpop l'abbiamo già fatta puoi trovare una fantastica sorpresa l'abbiamo già fatto secondo me l'abbiamo già fatto le uova no secondo me abbiamo fatto anche le patatine subito non guardiamo dietro puoi trovare una fantastica sorpresa allora intanto è molto bella la copertina si l'abbiamo già fatto allora andiamo a vedere tanto patatine ne assaggiamo una tavola di merenda allora io ho trovato adesivi bellissimi mi abbassa ho trovato degli adesivi in rilievo è vero che non l'abbiamo fatta almeno non mi pare sono adesivi in rilievo e anche tu hai trovato adesivi in rilievo vediamo se sono uguali allora ho trovato no stai distruggendo solo tutto il tavolo 5 diverso 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 bene quanti sono in totale praticamente su tre serie ne abbiamo trovate due perché ne abbiamo trovato due quattro sei otto dieci e dovrebbero essere vediamo 5 10 15 20 no la metà 10 su 20 non abbiamo trovato doppi sono belli ma proprio perché sono panciottosi vedete esatto questa cosa l'avevamo fatta forse anche con miracoloso questi lo sai che sono miei non tutti quali vuoi lo sapevo lo sapevo questo e va bene e questo con i dentoni mi piaceva anche a me però a me piace anche questo classico perché spongebob va la bellezza di essere apprezzato anche dagli adulti io adoro spongebob adoro i cartoni animati di sport sono veramente belli e non abbiamo trovato non c'è niente doppio vediamo di qua no perché ci sono le uovette e è vero dentro ho messo queste uovetti con questi qua è impossibile quasi impossibile trovarli doppio perché butti uno invece gli adesivi ne può scappare uno nelle bustine è vero è vero è più facile è anche strano che mettano queste cose qui quando ma forse per non schiacciarli perché sono appunto panciottosi e quindi come sempre noi apriamo i sacchetti di patatine lo facciamo per voi non perché abbiamo le patatine oppure le sorpresine assolutamente diciamo lo facciamo anche per voi quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre noi vi studiamo e ci vediamo al prossimo video ciao